Ciao, in questo video vi mostro cosa si può seminare o trapiantare nel mese di novembre nel vostro orto. Partiamo di qua dove troviamo le sementi di bietole di vari tipi, le sementi di rucola, insalate, spinaci, piselli di vario genere, la fava, i burbi di scalogno, i burbi di aglio, i burbi di cipolla invernale, le zampe di asparago, le piante di cipolle estive, i carciofi, le piante di prezzemoli, le bietole e vari tipi di insalata. Poi abbiamo anche tante piante di agrumi che si pianta tutto l'anno. Vienici a trovare nel nostro sito o nella nostra vivendo a Cotignola. Un saluto.